Buon pomeriggio 7 settembre, buon pomeriggio a tutti, qui c'è un bel venticello, vi aspetto, vi aspetto tutti, ecco che vedo Paola Gervasio e Giuliano Ones e tanti altri amiche e amici che stanno passando a trovarci, a trovarci perché fra poco l'ospite di questo pomeriggio è Guido Vianello, un pugile, un campione, nelle sue ultime imprese ha sostenuto ben sette match vinti per KO tutti entro i primi due round in America con il promotore top rank di Bob Arum, tra poco con noi in collegamento da Las Vegas, speriamo che la connessione sia clemente con noi, vi vedo abbastanza numerosi, io vi ringrazio, non finirò mai di ringraziarvi perché si è creato questo angolo di condivisione ma grazie anche a voi, alla vostra partecipazione, al vostro affetto, alle vostre presenze e quindi questo eccolo che mi sembra già in collegamento, io non vedo l'ora, c'è tutto un fermento perché insomma, naturalmente temo sempre per quanto riguarda il collegamento. Vediamo, siamo in attesa che lui venga a trovarci, eccolo! Ciao ciao Elena, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Grazie e grazie per aver accettato l'invito eh Guido, grazie di cuore, grazie. Allora, noto subito che abbiamo le stesse cuffiette con filo che ormai non usa più nessuno, però io le ho perse quelle senza filo, quindi noi siamo un vecchio stampo. Infatti, bravissimo Guido, allora io vado subito come ogni ospite a fare una piccola presentazione, però Guido ti prego aiutami perché non sono per niente preparata, per quanto ho studiato in questi due o tre giorni, perché solo se vedo un ring io tremo dalla paura. Allora, tu stavo dicendo a tutti i nostri, alle nostre amiche, ai nostri ospiti che sono qui in ascolto, che sono sette match che hai vinto per KO, tutti entro i primi due round. Sì, non voglio perdere tempo, sono veloce. Mi hai schiacciati proprio. Sei a Los Angeles, praticamente tu nel 2016… Las Vegas. Scusami, Las Vegas, perdonami. Vinci nel 2016 il torneo mondiale di qualificazione olimpica dei pesi supermassimi, conquistando l'accesso ai giochi olimpici di Rio de Janeiro. Adesso la domanda nasce spontanea perché io ho fatto una piccola ricerca. Tu sei romano, romano de Roma. Tuo padre Fabrizio, presidente del circolo tennis team Vianello, è un allenatore di tennis. Tu Guido sei stato con la racchetta in mano insieme a tuo fratello Giacomo, a tua sorella Elena che si chiama come me, a tua madre, ci fai capire questa trasformazione, come è avvenuta? Ma io ho avuto per dieci anni la racchetta in mano. Io sono nato e mi hanno messo sul campo da tennis. E certo. Però forse sai, quando metti un bambino e lo metti a fare qualcosa che decidi tu, ecco, certe volte il bambino cerca di voler fare altro, di cambiare strada. In più c'avevo il fatto che io crescevo tantissimo, infatti a 15 anni ero madre del 95 praticamente. Quindi ecco, nel campo da tennis ero molto… occupavo molto spazio. No, diciamo che sentivi qualcosa di più forte dentro di te. Diciamo non riuscivo a far uscire l'energia che avevo nel campo da tennis, perché ero un ragazzo con tanta energia, effettivamente adesso si sta vedendo. Però ecco, all'epoca non mi ci trovavo. Poi mio padre era il mio allenatore, quindi mi dava certe strillate che me le ricordo ancora adesso. Certo, ma immagino che l'allenatore del pugilato non sia di meno, insomma saranno comunque severissimi gli allenamenti. Assolutamente. Però sai, non era la mia famiglia, era una cosa esterna che nessuno conosceva. Io per caso arrivo alla box, perché per andare ai campi da tennis passavo di fronte un capannone della Montagnola a Roma, dove c'era scritto box. Quindi io leggendo box ho conosciuto questa nuova vita, questa nuova strada, perché io non sapevo niente, solo Rocky Balboa conoscevo. E' certo, è ovvio. Infatti ti ho dedicato la musica nel post per invitare tutti gli amici e le amiche. Scusami Guido, ma come sei entrato? Buonasera, mi chiamo Guido Vianello. Sono entrato timidissimo, perché è un altro ambiente, è completamente diverso dal circolo di tennis. Sembrava una gabbia di matti quella palestra, tutti a urlare, a tirare questi cazzotti, sudati. C'era un odore di guantoni stratosferico, perché comunque è una palestra molto rude, molto a mano. Mi sono avvicinato timidamente e il mio primo allenatore, Italo, della Garbatella, mi disse dimmi cosa vuoi e ci fai qui, perché non c'entravo niente. Gli faccio, guarda, dimmi tu cosa posso fare, magari posso fare un po' di prepuginistica, tirare qualche colpo. Lui mi fa, va bene, vieni da domani e iniziamo. E quindi ho iniziato. Così i tuoi primi passi sono stati proprio questi. Da lì poi ovviamente credo anche incontri fortunati o comunque dentro di te è cresciuta sempre di più la voglia di diventare poi un vero e proprio pugile a livello internazionale, mondiale. Tutto naturale, è stato automatico. Ho iniziato a combattere dopo poco, sono entrato in nazionale dopo un anno e non mi sono più fermato. Ciao Manuele, ciao Manuele Farris, un abbraccio. Ciao Manuele. Manuele. Senti, da quanti anni? Vado per l'undicesimo, quindi dieci anni pieni, ora vado per l'undici anni. E racconta a tutti noi come mai questo poi passaggio in America, a Las Vegas? Perché come si dice nei film, hanno fatto un'offerta che non potevo rifiutare. Quindi ho incontrato il mio manager Sam Jones a Londra in una stuola di allenamento e mi ha detto vengo a Roma a trovarti che ti voglio proporre una cosa. È venuto a Roma e mi ha fatto venire questo contratto del miglior promoter al mondo, che sarebbe la top rank. Con tutta una prospettiva di crescita, ecco che a me mi ha sempre entusiasmato, ecco il progetto, il voler arrivare insieme da qualche parte. Me l'hanno proposto e così io mi sono congettato dall'arma dei carabinieri perché ero nel gruppo sportivo. Ho lasciato la Nazione Italiana, io pensavo alle Olimpiadi dopo, pensate, stavo proprio in prospettiva delle altre Olimpiadi. Invece ho salutato tutti, tutti sono stati contenti perché comunque sto facendo una bella cosa, quindi mi seguono tutti e rimaniamo in contatto. Ebbè certo, ovviamente ti seguono tutti, da oggi credo che ti seguirò anche io e tante persone che sono qui in ascolto. Però ci devi descrivere, ma questa è una domanda molto mia, personale. Come riesci a gestire la paura, Guido? No, la paura dei pugni, la paura di farsi male non c'è perché poi quando stai lassù ti faresti tagliare un braccio per vincere. Quindi più che altro la paura prima, la paura di perdere, perché uno pensa molto, oddio se non ce la faccio, mi salta tutto, le persone cosa dicono. Quindi è quella la paura, però io mi alleno alla paura non pensandoci, quindi c'è un sacco di attività, di hobby che mi tengono impegnato e quindi non ci penso e sto tranquillo. Non ci pensi però diciamo che la tua giornata tipo è fatta credo di tot ore di allenamento. Sì, tot di allenamento, ma le ore sono più ore di riposo, di stare a casa tranquillo, di non stressarsi. Quindi per questo io studio, leggo, suono un po' il pianoforte, ecco mi do da fare perché appunto ci sono tante le ore che devo stare comunque tranquillo e non andare a fare i party per Las Vegas, no? Come uno può pensare. Invece è una vita molto stabile, tranquilla e si sta tanto in palestra anche, sì. Appunto, dico quando, non lo so, credo tutti i giorni tu andrai in palestra. Mattina e pomeriggio, sì, mattina e pomeriggio. Mattina e pomeriggio o quante ore? Due ore, due ore? Sì, perché sono molto intense, la palestra è privata, quindi ci sono solo io, il mio allenatore si dedica solo a me, quindi facciamo due ore piene intense, mattina e pomeriggio, sì. Vabbè, è inutile dire che sarai una roccia, sarai praticamente un pezzo di marmo, perché ovviamente c'è tutta la base dell'allenamento, come dici tu, sono 11 anni che tu mantieni questi ritmi, ma c'è anche tanta tanta aspettativa su di te. Sì, sì, diciamo che ho un bel percorso davanti, quindi ci sono tutte le possibilità di fare belle cose. Diciamo che il mio desiderio è portare in Italia il grande pugilato, la grande box, come era tanti anni fa, negli anni 60-70, la box era un grande sport da noi, forse pure più del calcio, del pallone, no? Quindi il mio desiderio è ritornare ai tempi della Grecia, cioè proprio con i lottatori, tu fai uno sport che comunque è stato il primo al mondo a iniziare, proprio secondo me, insieme all'essere umano. Non riesco a concepire perché si chiama uno sport violento ma leale, non lo riesco a concepire per la paura, perché quando vi vedo sul ring io comincio a fare così perché mi sento male. Ovviamente dietro lo so che c'è tutta una preparazione che sapete anche voi come, con le regole, i colpi bassi. Guarda, ci sono molte regole, ci sono molte regole e noi siamo molto rispettosi di queste regole e poi sappiamo il sacrificio che c'è dietro. Purtroppo mi è arrivata la notizia che è morto un ragazzo in Italia, un ragazzo molto giovane, di 20 anni, che è stato appunto pestato da 5 individui, 5 giovani che dicono che siano lottatori di MMA, di wrestling, insomma, dei ragazzi che vanno in palestra e si allenano. Ecco, un vero puggire non potrebbe mai fare una cosa del genere. Bella questa cosa, mi stai facendo venire brividi. Non potrebbe mai fare una cosa del genere perché sappiamo che vuol dire combattere, poi uno contro uno e non 5 contro un povero ragazzo. Ecco, è uno sport nobile perché da noi non esistono queste cose. Noi ci si picchia, tra virgolette, su un ring, ma appena finisce il combattimento ci si abbraccia e ci si rispetta perché è troppo il sacrificio che si fa. È troppo il sacrificio che si fa e non si spreca andando a picchiare per strada, ma poi soprattutto in gruppo. Non esistono queste cose. Quindi ecco, consiglio di fare più pugilato e pensare meno alle stupidaggie. Bravo, bravo. Grazie veramente Guido per questo grande messaggio che hai mandato perché poi dietro secondo me ci sta tanta roba negativa come la rabbia, come uno spirito così negativo che veramente sicuramente come dici tu non praticano uno sport che comunque li tiene centrati, li strada. Perché io credo che anche il pugilato da Rocky Balboa, da tanti film che abbiamo visto, hanno veramente insegnato che cosa vuol dire. Poi se andiamo a vedere addirittura la storia dell'attore che pur di fare il film ha rinunciato a qualsiasi produzione pur di interpretare lui. E questo invece è bello che tu addirittura vuoi portare non un film, non come si veste stallone, ma vuoi portare addirittura a una scuola di pugilato che però ovviamente, perché ce ne sono di scuola di pugilato, ma magari più forte, cioè che possa avere più smistamenti in tutto il mondo, giusto? O correggimi se sbaglio? È così? Assolutamente, sì, 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 sì. Dare anche dei punti di riferimento, dare qualcosa da fare ma con le giuste linee perché ormai uno, poi con questi social network non si capisce più niente. Quindi dare qualcosa di solido e dare anche una speranza, far vedere perché voglio fare un evento, un mondiale a Roma per far vedere che cosa significa. Io che sto qui a Las Vegas, prima del coronavirus, ogni weekend io assistevo a eventi di box pazzeschi e così sogni molto, così vedi cosa significa e dal giorno dopo ti dai da fare per voler arrivare lì. Bravo, infatti è così, è tutto così. Fammi sapere perché veramente nel mio piccolo cerco di fare quanta più pubblicità è possibile e poi forse sarà quello l'evento che io riuscirò a venire a vedere un incontro di pugilato dall'inizio alla fine. Senti, ma è vera questa notizia che Mike Tyson sta ritornando ad allenarsi? Eh sì, torna perché comunque lui sta molto in forma da quello che si vede. È un nome conosciuto in tutto il mondo, quindi anche se torna per fare una dimostrazione, ma non un match ufficiale, comunque tutto il mondo sta con gli occhi puntati su quest'evento. Fa bene al pugilato perché si parla di pugilato in tutto il mondo, quindi io sono a favore e sono contento. Penso lo facciano qui in zona, quindi se si potrà accedere l'andrò anche a vedere. È una cosa bella. Fammelo sapere, regalami una foto tramite WhatsApp, perché comunque io ti ripeto, nel mio piccolo, ovviamente io facendo l'attrice non ho un pubblico che è un pubblico come dire proprio accanito, però sai non si finisce mai di allargare, magari i figli delle mie amiche, le persone così non hanno il coraggio e attraverso una tua diretta il coraggio viene così, viene così Guido, viene sentendo, ascoltando le esperienze di altre persone. Senti, come lo hai vissuto il Covid e come state in questo momento? Io stavo qua, mi ricordo a febbraio, qui ancora non era arrivato niente, l'Italia invece già stava tutta chiusa e quando è scoppiato anche tutto qui in America hanno chiuso tutto da un giorno all'altro e sono stato un po' spaventato perché non sapevo cosa dovevo fare. Poi arrivavano certe notizie qui dall'Italia terribili, che l'Italia sembrava distrutta, quindi non sapevo cosa fare, ho deciso di stare fermo, sono stato tre mesi qui a Las Vegas tranquillo e mi sono rilassato, poi qua guarda, mi sono allenicchiato perché abbiamo la palestra privata, quindi andavo solo io e c'è molto deserto, poi una volta che chiudi tutta la strip, che sarebbe la strada dei casino, la gente non ci viene qui, quindi ecco siamo stati tranquilli, si andava a fare passeggiata, si andava ai laghi, ai fiumi, mi sono rilassato, ho fatto passare il periodo, poi siamo rientrati a combattere a giugno, io ho fatto il primo evento di boxe dopo il covid del 6 giugno, quindi ecco appena potuto riprendere mi sono rimesso i guantoni. Vabbè diciamo che in contemporanea ti sei trovato più o meno come l'Italia, perché noi ci hanno liberati a giugno, io a giugno sono potuta venire qui nella mia casa al mare per dirti uno spostamento leggermente un po' più lungo. Sì, 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 qua hanno chiuso un mese, hanno chiuso solo un mese qui a Las Vegas, in Nevada. Senti Guido, e adesso che aria si respira? Cioè c'è una rinascita, c'è una buona prospettiva per il futuro o c'è pessimismo? Qui è tutto molto fiacco adesso, hanno aperto il 50% delle cose, dei ristoranti, degli hotel, molte persone vengono licenziate ogni giorno, perché c'è poca gente. Questa è una città che vive di eventi, quindi se levi gli eventi non c'è niente da fare, quindi la gente non ha più lavoro. Diciamo che è una situazione un po' di fermo totale, però la box va, perché c'è il collegamento su SPN, che è un canale americano, quindi ci fanno fare attività. Io combatterò penso meno di un mese, ancora aspetto la conferma, però per quanto mi riguarda mi do da fare, sto sempre puntato verso il mio obiettivo. No, no, ma questo figurati Guido, sappilo che io la penso come te, anche io non sto lavorando come attrice, ma sono sicura che se noi siamo centrati è un momento, come dire, è un momento che deve passare, deve passare assolutamente. Speriamo che i nostri governanti, quindi quelli che governano lì a Las Vegas dove sei tu e quelli che governano qui in Italia dove siamo noi, possono avere un po' di buon senso anche per unire la salute con l'economia, perché come tu giustamente dicevi prima, è vero, forse Las Vegas più di l'Italia, ma anche l'Italia qui stanno chiuso, l'avrai sentito, moltissimi alberghi e quindi naturalmente ci viene spontanea la domanda di dire, allora che cosa succede? Questa roba viene comprata da altre persone, perché non dare l'opportunità all'imprenditore italiano e così tutta la catena. Però io ti sento positivo, mi sembra. Assolutamente. Ti sento positivo, ti sento molto calmo, ma la box è uno sport che riesce a far mantenere molto la centralità, oltre come dicevi tu che ha delle regole ben solide. Beh sì, guarda, se hai modo di provare un allenamento di prepugilistica ti rendi conto come ti scarica tanto, perché è un allenamento molto duro comunque, convolge tutto il tuo fisico, quindi ecco, dopo questi allenamenti, ecco, il tuo amore è molto tranquillo, perché appunto scarichi, ma anche una terapia può essere, colpire un sacco, può essere una bellissima terapia, sia per scaricare la propria tensione, sia per combattere anche le paure, la timidezza, anche io sono cambiato molto caratterialmente prima di questo sport e dopo, quindi ti può anche aprire molto caratterialmente. Quindi per questo sì, ti porta poi a essere molto tranquillo e equilibrato nella vita. Scusa la mia ignoranza in materia, io ovviamente mi rifaccio sempre al film di Rocky Balboa e di Silvestre Stallone, quando vedevamo quel mitico allenatore con il quale ho avuto l'onore poi di lavorarci come attore, ma adesso non parliamo del mio lavoro, ma parliamo del tuo. L'allenatore, quanto è importante nella vita di un pugile? È importante perché deve guidare, ti deve guidare, ti deve capire e poi quando stai lassù sul ring va bene che sei te, ma comunque avere anche una voce in un angolo che ti consiglia cosa fare può essere molto importante in certe situazioni perché magari non sei tanto lucido e ti lasci troppo prendere dalle emotività. Qui c'è Kick Mods che ti dice Guido, you are a legend! Thank you very much! Beh, stai avendo The Gladiator! Pazzesco! E quindi il tuo allenatore, intanto da quanti anni sei a Las Vegas? Da due anni, da due anni ho iniziato con un allenatore messicano per sei mesi, poi delle cose non andavano, quindi ora sto da un anno e mezzo con un altro allenatore che mi si trova, ho aggiustato un po', ora sto in una situazione perfetta, sto a casa del mio allenatore con la sua famiglia, quindi si prendono cura di me sotto tutti gli aspetti e io sto sempre, non mi alleno e basta. Quindi nasce proprio una forma, ecco, mi hai detto addirittura della famiglia, quindi nasce proprio una forma che direi quasi anche di psicoterapia, nel senso, lasciami passare questa parola, io parlo negli allenamenti, ma poi affettiva per quanto riguarda la vita normale, cioè è un vivere 24 ore su 24? Beh sì, se no stare solo dopo un po' è abbastanza pesante. Poi in un paese che è totalmente diverso dall'Italia, io non ci vi direi mai, cioè ci sto per lavorare e sono contento, ma io amo stare in Italia perché è completamente diverso, però ecco, si sta insieme così, si sta in una famiglia, quindi ecco, parlo anche inglese, lo sto imparando molto meglio perché all'inizio ero isolato, ero isolato all'inizio, invece ora va molto meglio, per questo sono contento, è positivo. Senti Guido, c'è una persona che ti ha fatto una domanda completamente in inglese, se la riesci a leggere tu perché sicuramente sarai più preparato di me, che è sempre King, Mauds, Barry, Stoicis. Il mio allenatore sta facendo un ottimo lavoro con me e che sto andando bene. Thank you very much King, I'm doing well here, so I'm happy. Guido, bene, Guido, quando pensi di venire in Italia, a Roma, la tua città? Allora, per la fine dell'anno sicuro, per dicembre, per Natale, per stare con la famiglia, è tutto sicuro, ora devo vedere se riesco a fare due combattimenti o solo uno, ora penso al prossimo, quindi più o meno per i primi di ottobre, dopo i primi di ottobre farò il programma per quello successivo. E noi ovviamente ti facciamo mille in bocca al lupo, c'è una persona che mi ha detto che io conosco che è un affassionato di box e di pugilato, sta alle prime armi, si chiama Niccolò Siciliani, tra l'altro è l'imprenditore che mi gestisce tutti i social, che vorrebbe fare una domanda, aspettiamo che la… ecco, dice come si fa a vincere nella box la paura di mettere la faccia invece di nasconderla. È che metti la faccia tutti i giorni in palestra, quindi dopo un po' che metti la faccia capisci come difenderti e non prendere colpi, quindi è tutto allenamento, allenamento, ogni giorno fare pratica, ma più o meno in tutto nella vita, uno non è che nasce imparato in qualcosa, uno non è che nasce e sta suonando il pianoforte, però se ogni giorno lo suoni e studi, impari, quindi come nella box, ogni giorno stare lì, evitare colpi, difendersi e poi vai al combattimento che sei preparato. Guido, ma hai sempre dei guantoni nuovi o hai i tuoi ai quali sei appassionatissimo? Allora, no, nei combattimenti sono usa e getta, quindi sono sempre nuovi i guantoni. In palestra è importante avere guantoni nuovi, guantoni che ti proteggono, quindi i guantoni vecchi li lasciamo a casa e utilizzo guantoni sempre pronti, ecco, nuovi, buoni. Bene, bene, bene. Senti, ma come posso dire, è costoso? Cioè, seguire la box è costosa come pratica, come sport? No, assolutamente. Dici fare box se è costoso fare box? Tu prima di essere poi chiamato, la grande chiamata che poi ti ha portato ad avere sempre di più collegamenti mondiali, internazionali, prima tu hai dedicato… Sì, 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 ho capito. No, la box è assolutamente, non è uno sport costoso, anche perché la federazione bugisica italiana copre tutte le spese quando vuoi fare i tornei, quindi ecco, i primi tornei che ho fatto erano tutti spesati dalla federazione, poi entri in nazionale e vieni pagato e vieni, ecco, assolutamente non hai grosse spese, quindi è uno sport accessibile a tutti. Perfetto, e infatti io spero che tu quanto prima puoi realizzare il sogno di poter mettere una scuola in Italia, perché ce ne sono molti che hanno questa grande passione. Per esempio MCL dice, cosa pensi, Guido, delle difficoltà ad emergere a livello internazionale? Sarà possibile arrivare ai livelli di USA, Messico? Ma tu già ci sei? Sì, io sono qui. Quindi magari si è perso l'inizio della diretta. Penso che ti devi porre obiettivi raggiungibili e scalare piano piano la montagna, quindi uno quando inizia la box deve pensare all'Italia e a vincere tutto quello che può vincere in Italia. Dopodiché pensi europei, mondiali, olimpiadi. Una volta che hai raggiunto un livello massimo nella situazione dove sei, puoi iniziare a pensare all'estero, quindi all'America e comunque è un paese che ti dà tanto. Quindi ecco, porsi obiettivi raggiungibili e scalare questa montagna un passo alla volta, senza pensare a quando uno inizia e non puoi pensare ad andare in America. Ci pensi dopo qualche anno. Poi tu sei giovanissimo, quindi hai anche il vantaggio di non avere l'ansia, no? Perché poi ognuno di noi si fa degli obiettivi anche… No, non ho fretta, quindi sono tranquillissimo. Bravissimo, c'è un tuo caro amico Giovanni Sarchioto che dice grande esempio, Guidone, un abbraccio, ti manda un abbraccio, poi magari li puoi leggere anche tu dopo. Vuoi dire qualche cosa, Guido? Vuoi dire qualcosa anche legato al tuo sogno? Perché io credo che a Roma è una bella piazza, cioè potrebbe, io non so se per forza una scuola di pugilato bisogna aprirla, come hai detto tu, in un quartiere. No, le scuole ci sono, ci sono buone palestre, ce ne abbiamo buone palestre e bisogna fare gli eventi, ecco, eventi grossi di box, quindi far vedere, riempire i palazzetti, riempire pure l'Olimpico con un mondiale di box. Quindi ecco, dobbiamo sognare questo e questi anni sono, questi anni servono a questo per costruire tutto questo futuro, quindi bisogna darsi da fare. Bravo, bravo Guido, hai dato una, perché non tutti poi rispondono con i fatti, tu hai dato un esempio molto fattivo, cioè fare una cosa allo Stadio Olimpico, per esempio, dove fai un evento grandioso, come lo sta facendo fra poco Mike Tyson, che deve essere una roba spettacolare, ti prego se ti ricordi mandaci una foto, perché poi faremo il collegamento a te e naturalmente aspetteremo che tu lo venga a fare il più presto possibile in Italia. Però è questo, quindi tutti i manager che sono in ascolto, che in questo momento è un momento di cambiamento, Guido, è un momento di cambiamento, quindi quello che non poteva essere possibile l'altro ieri, fino a prima del Covid, probabilmente adesso c'è un'attenzione, una spettacolarità completamente diversa, perché prima o poi questo virus se ne dovrà andare. Quindi voglio dire, se ne andrà e a quel punto anche i manager che magari sono stati manager di altre categorie, attori, cantanti o chi che sia, possono prendere in considerazione questa cosa. Interessarsi. Interessarsi altri altri. Questa cosa così, perché io credo che il Fuggilato è uno spettacolo molto, molto, molto forte. Cioè comunque veramente, io mi sono andata a prendere la briga di andare a leggere, inizia nel 668 avanti Cristo, dove era l'unico spettacolo che si teneva, erano i lottatori. Adesso naturalmente, come stai dicendo tu, essendoci tante regole, quando uno sa che non c'è slealtà, perché la slealtà è quella che hai detto tu, i ragazzi che menano un solo ragazzino, a quel punto veramente può essere un bello spettacolo, dove ci possono stare anche dei canti, dei balli, delle altre cose in contemporanea. Sì, uno show, uno show vero, uno show completo. Come lo fanno in America, oppure mi sbaglio? Esatto. Quando vedi la box, stai al cinema praticamente, è bellissimo, ti dà un sacco di emozioni. L'NBA, il basket, tutto quello che fanno qui è bellissimo. Quindi riportare qualcosa da noi. dai, senti, allora io facciamo così, nel mio piccolo, nel mio molto piccolo, perché naturalmente sono totalmente in un altro ambiente, se ti dovessi ricordare di farmi mandare, dai la tua squadra, dei video di te, di quando sei prossimamente, nel prossimo ring e naturalmente noi ti facciamo i più grandi in bocca al lupo e anche lo spettacolo che si fa durante questo, questi incontri di pugilato, mi fai una cosa gradita perché io li mando su tutti i miei social e magari cominciamo a spingere un po' di tam tam. È piccolo, ma sai come hai detto tu, passo dopo passo, può venire la voglia anche a qualche di un altro. Guido grazie, 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 grazie a te. Salutiamo tutta la tua famiglia che sta a Roma, io sono a San Felice al Circeo, tra San Felice e Terracina, conosci bene. Io stavo a Sabaudia, stavo a Sabaudia agosto, pensate, una settimana a Sabaudia. Ma dai, vedi, se sapevamo ci potevamo anche incontrare vis-à-vis, ma lo facciamo la prossima volta. Ti aspetto quando arrivi per la fine dell'anno. Intanto, veramente, sei l'orgoglio italiano, sei il nostro orgoglio italiano e non mollare mai. Grazie. Ti aspetto, ti aspetto. Bravo. Grazie mille. Salutami tutta la famiglia dell'allenatore, del tuo allenatore, tutti loro e un grande bocca al lupo. Un bacio. Ciao, ciao, un abbraccio. Ciao, grazie, grazie ancora. Ciao, ciao. Bene, è stata veramente una bella chiacchierata. Mi è piaciuta proprio tantissimo perché è veramente una bella persona a Guido Vianello. È un ragazzo con le idee chiare, l'avete visto, l'avete sentito, dove ci ha dato veramente tanti spunti, ci ha dato tante spiegazioni di tante cose che questo è il bello di quest'angolo di condivisione. Magari di cose che io personalmente non conosco, non le so. E poi anche il fatto che comunque lui non mi sembra per niente un ragazzo che si è montato la testa, ma anzi molto semplice, molto umile e questa io credo, queste sono le prerogative più straordinarie perché poi tu possa diventare un campione. Bravo Guido, te lo auguro con tutto il cuore, lo sei già, ma io mi auguro ovviamente molto di più. Amiche, amici carissimi, grazie. Oggi siete di più del solito e mi fa piacere perché naturalmente ci sarà stato sicuramente anche qualche amico in più, qualche amica in più che è amante della box. C'è Ciro Faire che è un mio amico di sempre, napoletano, lui fa un lavoro di grandi, grandi vigili del fuoco, di grandissimo, come dire, è nobile, è un lavoro molto nobile, salva dalle foreste e agli esseri umani e questo naturalmente lui e i suoi colleghi ci fa onore perché rappresenta il nostro paese, l'Italia e l'amore che mettono tutti loro, Ciro per primo, a fare imprese sempre molto difficili e molto ardua. Saluto De Marco Maria, saluto Passaro Giovanni, un abbraccio a te Giovanni e a tutta la mia mitica Napoli che mi manca sempre tantissimo. Veramente sono molto contenta e sono molto contenta perché oggi ho parlato di un argomento che mi suddavano le mani perché io dicevo oddio, 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 invece poi quando incontri una bella persona le cose vengono man mano perché lui lo ha detto e ci ha raccontato tante cose con l'amore che mette, con tutto l'amore che Guido Pianello mette nel suo sport, nel suo lavoro. E poi cosa bella è che nel suo sogno c'è addirittura l'idea di mettere qui, di aprire qui una scuola, ma di fare anche un modo completamente, un lavoro completamente diverso da quello che svolgono in Italia fino ad oggi, ma magari più spettacolo, così proprio come si fa in America. Saluto, grazie di mito, grazie mille per i complimenti che mi fai. Manuel Farris, è arrivata tutta la passione, è vero, pure la mia, hai ragione perché proprio mi sono riscaldata, non l'avrei fatto andare più a Guido Pianello, gli avrei fatto 1500 domande perché rispondeva sempre con questa partecipazione, con questo amore che lo lega al suo sport e lavoro, perché poi naturalmente è un lavoro a tutti gli effetti. Grazie, grazie Manuel di avermi dato questo fantastico contatto, io ringrazio tutti quanti voi, amiche e amici che siete sempre, dico al mio fianco ma perché veramente lo è, siete sempre presenti e mi date l'opportunità di poter avere l'entusiasmo sempre giusto per poter fare queste fantastiche dirette e quindi attraverso le vostre domande, le vostre curiosità e anche io a gratta qui, gratta lì a trovare nuovi personaggi che ci possono poi dire cose diverse, cose nuove, cose che non sappiamo, abbiamo notato che Las Vegas è stato esattamente come noi, tante volte noi pensiamo oddio, oddio l'Italia e invece anche loro hanno e vivono questo momento esattamente come noi. C'è Vince della Corte, dice mi avete fatto rivivere i bei momenti di quando praticavo kickboxing, bravo, grazie Vincenzo che ce lo hai scritto, mi fa piacere che io sono stata un tramite e ho potuto darti questa possibilità grazie al campione Guido Vianello, Veronica Smatoral, grazie, poi c'è Cesare, ciao Cesare, buon pomeriggio, Giuseppe Nitti, grazie. Allora amiche e amici io vi aspetto Barbara Respo, ciao Giuliano Ness, ciao buon pomeriggio, io vi aspetto venerdì prossimo come sempre nella diretta di Facebook e vi auguro veramente una buonissima settimana, c'è un po' si è rinfrescata l'aria, mi è anche più piacevole perché così è meno afoso, è caldo rispetto all'estate che abbiamo vissuto, che credo che noi in Italia tutti più o meno abbiamo vissuto un bel caldo afoso, però adesso siamo qui a questo settembre, bello pieno, questo venticello, c'è voi che posso desiderare di più, vi auguro buona settimana, vi aspetto venerdì prossimo su Facebook, un abbraccio fortissimo e grazie, 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 sempre grazie perché la vostra partecipazione mi dà sempre di più quell'entusiasmo per riuscire a trovare nuove amiche, nuovi amici, nuovi ospiti che ci fanno compagnia, grazie ancora, un abbraccio, ciao.